Ben tornato Goodyear, ben tornata. Andiamo a trattare una sezione del pannello di controllo che bene o male già hai visto in parte, quella del ripristino. A cosa serve? A ripristinare il sistema operativo ad una condizione precedente, oppure a ripristinare l'intero computer partendo da una tua copia di backup, oppure ancora ripristinare dei file o infine reinstallare l'interno sistema operativo partendo da una copia originale presente sul tuo disco, sul disco che hai eventualmente acquistato come copia originale. Una parte di questa sezione è, come è stato detto, trattata nelle lezioni precedenti, in particolar modo quelle comprese tra la 101 e la 103 e quindi potrai vedere le stesse lezioni e rispettivi video tutorial, per cui ti stimolo a consultarle e a vederle, per poter meglio integrare il discorso e completarlo con queste altre poche nozioni che andrò adesso a descrivere. Come accedi? Naturalmente avviando il pannello di controllo ed individuando il pulsante ripristino. Quando si avvierà questa sezione potrai trovare un pulsante che ti consentirà di accedere alla sezione per il ripristino configurazione del sistema, cosa che hai già ben visto nelle lezioni suddette e quindi ti rimando specificamente alla consultazione della lezione 102 e al video tutorial. Inoltre troverai il pulsante ripristina file o disinstalla un programma nella sezione in alto a sinistra, cosa che hai comunque già visto nelle lezioni inerenti. Il pulsante invece risoluzione di un problema sempre sulla sinistra in alto lo tratterò nella prossima lezione. Troverai invece al centro sotto il pulsante apri ripristino configurazione sistema un pulsante chiamato metodi di ripristino avanzati. Quindi queste sono le opzioni principali di questa sezione, quelle che ti ho descritto in precedenza nella sezione in alto a sinistra, eccole qui evidenziate. Quindi nella sezione metodi di ripristino avanzate andrai a trovare altri due pulsanti, utilizza un'immagine di sistema creata in precedenza per ripristinare il computer o ancora reinstalla Windows, eccole qui rappresentati in questa immagine. Il primo tipo di ripristino impiega un file immagine che ti sarà creato o creata in precedenza, mentre il secondo prevede la reinstallazione del sistema operativo partendo da un file immagine fornito dal produttore del computer o possedendo come detto il disco di installazione originale di Windows. In entrambi i casi ti verrà comunque chiesto prima di eseguire una copia ulteriore di backup allo stato attuale a cui comunque potrai rifiutare o accettare e successivamente si avvierà la procedura per portare al termine l'opzione che avrai selezionato tra le due. Inoltre la prima opzione ti consente di mantenere una versione personalizzata del sistema operativo in quanto avrai creato tu questo file, ti ripristino questo file di backup e dopo aver installato i driver e i programmi di tuo interesse e disinstallato quelli che non utilizzerai, quindi dovrai soltanto al ripristino effettuare dei piccoli aggiornamenti alle nuove versioni dei programmi eventualmente installati. La seconda opzione al contrario è soggettiva al produttore, quindi troverai tutto ciò che il produttore ritiene necessario per l'utilizzo e eventuali anche altri programmi derivati da affilazioni stipulate da terze parti con il produttore stesso. In definitiva dovrai rimetterci le mani in maniera importante. La reinstallazione da disco originale invece potrebbe portarti sia a una installazione pura ma anche eventualmente a una sovrascrittura con creazione di una cartella Windows Hold, così è denominata, nella quale troverai i file utente della precedente installazione del sistema operativo, quindi con un naturale dispegno di risorse hardware di memoria inutile in quanto non verrà rimossa la configurazione precedente del sistema operativo. Anche in questo caso i due interventi quindi dovranno essere rilevanti. eccoci qui per la parte pratica. Clicca sul pulsante Start, pannello di controllo e individua naturalmente il pulsante Ripristino. Come detto avrai in visione alcuni pulsanti sul lato sinistro, alcuni dei quali già trattati e il pulsante grande per avviare Ripristino configurazione di sistema. Consulta la lezione e il video tutorial relativo per la spiegazione di questo pulsante. Ora andiamo a vedere i metodi di Ripristino avanzati. In questa sezione troverai un pulsante didattico, se vogliamo, nella quale si aprirà la guida a linea della Microsoft e che potrai consultare per migliorare le informazioni riguardo a questa sezione. Comunque troverai due pulsanti, utilizzare un'immagine di sistema creata in precedenza per ripristinare il computer o reinstallare Windows, nel quale ti richiede il disco originale per l'installazione di Windows. In questo caso, cliccando sul primo pulsante, ti verrà chiesto, come detto, la possibilità di eseguire un backup dei file e quindi cliccando su questo pulsante eseguirai un backup come visionato nelle lezioni specifiche. Potrai ignorare e quindi avviare il Ripristino del computer, cliccando sul pulsante Riavvia e, una volta che il computer si avvierà, potrai indirizzare il Ripristino dello stesso sfruttando una copia di backup, seguendo la metodologia che hai visto nelle lezioni precedenti. Quindi dovrai creare l'ambiente di Ripristino nel quale andare a pescare il backup creato. Annulliamo questa opzione e andiamo a selezionare la seconda opzione. Anche qui dovrai naturalmente decidere di rispondere o meno se hai il disco di installazione originale di Windows e dovrai cliccare quindi su sì, con il quale potrai reinstallare il sistema operativo oppure cliccare su no per abortire questa opzione. Se vuoi portare a termine la reinstallazione, naturalmente clicca su sì. Ti avrà chiesto, come in precedenza, la possibilità di eseguire una copia di backup, cliccando sul pulsante Esegui backup, oppure ignorare e, una volta cliccato su Riavvia, naturalmente il computer si riavvierà e dovrai sfruttare il disco di Windows, quello originale, per poter reinstallare il sistema operativo. Bene, terminiamo questa breve lezione e come sempre ti rimando alla prossima per nuove informazioni sul pannello di controllo. Ora un forte saluto, ciao a presto da Gallo e alla prossima!